Nel 1955 l'ingegner Dante Giacosa alla presentazione della Fiat 600 dichiarava Abbiamo cercato di fare del nuovo, sia per amore del progresso, sia per trovare soluzioni sempre più semplici. Questo in ottimo stato di conservazione è uno dei primissimi prototipi della 600, realizzato nel 1952. Pare sia l'unico sopravvissuto di cinque, costruiti tra il 1952 e il 1954, tutti differenti tra loro, tutti con il nome Progetto 100. La vettura voleva motorizzare l'Italia del dopoguerra. Sostituta della gloriosa Topolino, doveva comodamente portare quattro persone e un minimo di bagaglio. Il progetto prevedeva un peso che doveva girarsi sui 450 kg e una velocità di crociera che non doveva essere inferiore agli 85 km orari. Nel 1952 Giacosa, allora direttore degli uffici tecnici autoveicoli, scelse la soluzione più semplice ed economica. Come già fatto da Ferdinand Porsche per la Volkswagen e Renault per la 4 cavalli, adottò la disposizione tutto dietro, motore posteriore e trazione posteriore. Il risparmio sul peso era tra i punti essenziali. Si scelse la scocca portante per racchiudere l'abitacolo e il vano di un motore studiato ad hoc, che avesse dimensioni decisamente contenute. Il motore a due cilindri a V con raffreddamento ad aria era di 570 cm³. I corpi in alluminio pressofuso dei fanali posteriori fungevano anche da convogliatore d'aria. Un'unico asse a camme comandava i bilancieri e la distribuzione era a valvole laterali. Altra particolarità innovativa del prototipo era l'assoluta mancanza del pedale della frizione. Tra gli intenti del progetto era non solo quello di costruire una vettura economica e capace, ma anche di essere estremamente intuitiva e facile da condurre. La disposizione della meccanica nel vano motore doveva poi permettere l'accesso a un'agevole manutenzione. I risultati dovettero essere stati piuttosto deludenti, visto che il progetto del motore venne alla fine abbandonato. Per la 600 definitiva si scelse invece un 4 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, che divenne un classico negli anni a seguire. Con vari adattamenti e aumenti di cubatura, fino a oltre 900cc, arriverà a motorizzare la A112, la Panda e la A1. Il prototipo che abbiamo fotografato, finiti i test e l'abbandono del motore bicilindrico, probabilmente non fu più utilizzato. La meccanica, ferma da diversi decenni, risulta bloccata. Scaricata dal camion e spostata a mano nei nostri studi, ci rimane una sola grande curiosità. Sentire il sound del suo motore bicilindrico. Grazie a tutti.